simone amico come stai benissimo un altro video un altro video con simone bellissimo cosa c'è oggi c'è un chianti c'è un chardonnay di toscana è uno chardonnay della toscana della zona del chianti mi ha piaciuto moltissimo i due bottini mi fa piacere e chi è il produttore il produttore domenico silla domenico silla il bravo è il bravo domenico silla che dalle marche è venuto nella toscana per fare bambini meravigliosi amico di berlusconi amico di berlusconi ho presentato quella bambina tutti quelli bambini meravigliosi ha presentato rudy domenico parla un po' dell'azienda della vostra storia la nostra azienda è un'azienda molto benissima con 300 altri distribuiti nel chianti chianti classico è distribuito anche parecchio olivetti produciamo vino nel chianti nel 45 47 siamo lavoriamo in tutto il mondo la nostra produzione prima lontana tutto è nella verità ma non c'è in Brasile in Brasile non c'è bisogna cercare l'importatore io ho piacere di portare anche il mio vino fare conoscere in Brasile ma va a cercare l'importatore che voglia deve scrivere per onde c'è un sito qual è l'indirizzo parla l'indirizzo del sito la tancia la tancia la tancia dot com la tancia www.latancia.com la tancia dot com la tancia punto com la tancia è t a c c i a punto è questo? aspetta c'è il bigliettino c'è qui? tancia 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 ok www.tancia.com perfetto grazie mille piacere grazie grazie a tutti grazie a tutti